Giardinieri al lavoro questa mattina nel parcheggio ovest dell'ospedale San Bassiano. È da qui che oggi è iniziato il lavoro di piantumazione di oltre 300 nuove essenze arbore che nelle prossime settimane interesserà buona parte dei quartieri cittadini. Comincieremo con un'importante litigazione dell'isola di colore quale il parcheggio dell'ospedale San Bassiano con la piantumazione di oltre 65 essenze arbore. Privilegeremo le piante per le varie biodiversità. Ci saranno dei frassini, ci saranno degli aceri, ci saranno dei ciliegi, anche piante appunto da fiore. Un intervento nato anche dall'impulso dei consigli di quartiere che continua l'attività avviata già da qualche mese dall'assessorato all'ambiente con un doppio obiettivo, la mitigazione ambientale da una parte e l'aumento della biodiversità dall'altra. Per il progetto l'amministrazione cittadina ha stanziato oltre 100.000 euro.